Pompe funebri Calcaterra, servizio di onoranze funebri con orario continuato anche notturno. Da anni nel settore l'azienda si occupa con discrezione e cura di onoranze funebri in momenti delicati per la perdita di una persona cara. Personale competente e cortese sarà in grado anche di gestire il disbrigo di pratiche e potrà aiutarvi e sostenervi. Pompe funebri Calcaterra serve la zona di Magenta, Mercallo e Trecate. Per ulteriori informazioni 02 97 29 82 54